Eccoci bentornati su GoGames in questo nuovo format che necessita ovviamente di una vostra opinione. Qualora vi piaccia anche questo tipo di contenuti mi raccomando fatecelo sapere con un bel commento così possiamo prepararne altri e condividere con voi quante più cose possibili. Partiamo subito con il succo del discorso. Perché nasce questo video? Questo video nasce dalla necessità di comunicare con voi e di farvi sapere come mai sono usciti e stanno uscendo pochi contenuti su Dragon Age The Veilgard. Titolo che abbiamo preso al lancio un paio di giorni prima anzi in realtà al prezzo di 80 euro. Mannaggia a me e a quando l'ho comprato. Dico questo perché mi aspettavo quantomeno un minimo di GDR all'interno del gioco. Dal momento che Dragon Age è una delle saghe di punta per quanto riguarda i giochi di ruolo speravo almeno di ritrovare un qualcosa di simile all'interno di questo titolo. Anche se è stato un pochino stravolto il tutto a partire dall'impatto grafico dallo stile che per carità molto piacevole da guardare non lo metto in dubbio. Le ambientazioni sono bellissime. Questo è uno dei pochi aspetti positivi del gioco dal mio punto di vista ma per tutto il resto manca veramente di quello che è Dragon Age e di quello che dovrebbe essere un gioco di ruolo. Qui di ruolo non c'è assolutamente nulla. A partire dalla creazione dei personaggi che sì ok tutto il casino successo per l'inclusività inserita a forza e messa lì senza un particolare motivo in realtà se non far capire qual è il proprio schieramento politico ma di base non possiamo creare il personaggio che noi vogliamo in realtà perché non ci sono tutte le possibilità. Sono state inserite determinate cose appunto per l'inclusività ma sono state escluse altre categorie e altre persone se vogliamo. Non si possono creare personaggi con delle tettone enormi per esempio oppure con dei sederi enormi oppure con una carnagione molto molto chiara oppure ci sarebbero altri milioni di esempi che posso farvi che però non starò qui a farvi per non parlare solo ed esclusivamente di questa cosa. Vi basti sapere che l'editor dei personaggi non è così approfondito come in realtà hanno lasciato intendere e di conseguenza già partendo da lì va a mancare proprio il gioco di ruolo il potermi immedesimare quanto più possibile nel personaggio che io voglio creare perché se non posso creare il personaggio che mi sono prefissata magari non riesco ad immergere immergermi totalmente all'interno della storia. Ma oltre questo anche la storia di per sé è di una noia assurda. Non c'entra nulla con Dragon Age se non per il nome dei personaggi e un pochino per la lore che ci circonda ma di base effettivamente non ammordente, non ti cattura, non ti coinvolge come i precedenti capitoli che ho giocato tutti anche se non sono una fan di spicco, preferisco altre serie come Mass Effect ma ho sempre giocato i Dragon Age e li ho sempre apprezzati tantissimo. In questo manca proprio la scrittura più profonda, la possibilità di fare delle scelte, abbiamo un personaggio che si arroga il diritto di rispondere senza interpellarci e questa cosa è un pochino assurda per quanto riguarda appunto Dragon Age e non c'è comunque possibilità di andare a creare un personaggio particolarmente cattivo. Si può solo rispondere bene, leggermente in maniera tra virgolette sgarbata, leggermente ma il riscontro con gli altri personaggi sarà sempre e solo positivo di scelte che vanno a incidere effettivamente sulla storia ce ne sono ben poche e per arrivare alla prima dovremmo arrivare fino al capitolo 6, fino alla fine del capitolo 6 se non ricordo male, che è tanto effettivamente e ci saranno poi poche altre scelte che effettivamente vanno a incidere sulla storia e quindi tutto quello che voi cercate di costruire con il vostro personaggio, quindi magari un personaggio cattivo per esempio, perché l'eroe lo potete fare tranquillamente, ma il personaggio cattivo non potete assolutamente farlo e qui mi va a mancare un pezzo fondamentale di un gioco di ruolo, quindi creare effettivamente il personaggio che dico io, dargli gli aspetti careatteriali che voglio vedere io, che voglio trasmettergli io, qui questa cosa non c'è assolutamente, la trama è piatta, noiosa ed è senza senso, non riesco a capirci nulla, non riesco proprio a starci dietro, i dialoghi sono di una pochezza devastante, a livello di gameplay sì ok all'inizio è divertente ma anche lì molto lineare, molto basilare, non c'è profondità, non c'è granché gusto nel cambiare build, nello sperimentare build diverse perché il gioco è comunque di una facilità, di una linearità assurda, non c'è possibilità di esplorare il mondo di gioco, sì ci sono delle open map tra virgolette, quindi abbiamo delle zone, delle mappe dove possiamo effettivamente andare in giro ed esplorare ma l'esplorazione lascia un pochino il tempo che trova perché non è che abbiamo questi grandi risultati, non abbiamo la possibilità di scoprire dell'equipaggiamento super figo, abbiamo solo la possibilità di andare a scoprire dei pezzi dello stesso equipaggiamento che abbiamo già trovato ci sono dei pezzi a numero proprio limitato quindi non troviamo tantissimi pezzi non possiamo distruggere l'equipaggiamento in più che voi che troviamo ma troviamo semplicemente lo stesso pezzo che va upgradato ogni volta che ne troviamo una copia quindi se ce l'abbiamo di rarità verde diventerà di rarità blu viola e via dicendo questo è non c'è possibilità di distruggere i pezzi appunto dell'equipaggiamento possiamo trovarli per noi possiamo trovarli per i nostri companion e non possiamo distruggerli questa cosa non ha assolutamente senso non possiamo nemmeno elaborare un party fatto in un certo modo perché magari in quella zona c'è un certo passaggio da sbloccare utilizzando un'abilità del personaggio no anche questo è stato tolto perché una volta trovato il personaggio dopo la prima volta che abbiamo utilizzato la sua abilità lui non servirà assolutamente più a nulla lui o lei che sia perché dopo potremmo farlo direttamente noi attraverso un'abilità per cui anche andare a creare il party giusto che ci aiuti a progredire nella storia a scovare segreti e quant'altro anche questo non c'è più non si può assolutamente fare perché tanto non serve a nulla vi basta portarvi dietro i due che vi stanno più simpatici che mamma mia hanno ridotto i personaggi che sono a barzelletta per cui insomma avete l'imbarazzo della scelta dal mio punto di vista ecco e quindi giovani sono tutte cose che vanno a inficiare l'esperienza di una giocatrice come me che comunque si è giocata tutti i vecchi capitoli e non vedo assolutamente il senso di continuare a giocare un titolo se non mi diverte per cui non porteremo più guide per quanto riguarda Dragon Age The Veilgard ma vorremmo sapere la vostra opinione e vorremmo sapere se anche secondo voi Bioware ha fatto un errore immenso perché avrebbe potuto tranquillamente tirare fuori un gioco per giovanissimi visto che l'intento per loro è assolutamente quello di attirare un pubblico giovane e potevano attirare questo pubblico giovane semplicemente andando a fare uno spin off della serie levando le romance in questa maniera non ci sarebbe stata il Peggy 18 più e avrebbero comunque tirato fuori un capitolo che si poteva far avvicinare i più giovani alla saga senza andare a snaturare tutto quello che era stato creato fino a Dragon Age Inquisition e mi piacerebbe capire il perché di questa scelta scusate forse so stupida ma non riesco proprio a comprendere come possa una software house andare a distruggere un capolavoro come Dragon Age ora tremo per Mass Effect so che stanno lavorando sul nuovo capitolo di Mass Effect e ho seriamente paura che possano andare a distruggere anche quella saga che già con Andromeda ci sono andati vicino anzi direi che hanno già fatto gran parte del lavoro di distruzione ma almeno era un pelino più giocabile di Railguard insomma fateci sapere anche la vostra e fateci sapere se questo tipo di format può piacervi e interessarvi detto questo non mi resta che ringraziare tutti gli abbonati al canale tutti super grazie tutti gli iscritti e vi do appuntamento al prossimo video